di fatto la motrice si è sganciata cobi bryan è morto in un incidente aereo stiamo parlando di uno dei dieci sportivi più importanti dell'ultimo ventennio stati uniti alzano la guardia sulla polmonite cinese un italiano positivo al coronavirus centro di questo focolaio di coronavirus questo è il pronto soccorso dell'ospedale di codonio lo vedete impedire l'allontanamento dal comune dall'area interessata l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca io resto a casa non ci sarà più una zona rossa ci sarà l'italia un'italia zona protetta su questa barca ci siamo tutti è casa mia questa da qui stiamo trasmettendo un telegiornale in diretta deve mia cara io sto bene tranquillo grazie a deus i've taken a test that has come out positive i've taken a test that has come out positive i came here wasn't feeling so well quello che accadrà dopo sarà il tentativo di tornare a una nuova forma di comunità globale oppure prevarranno gli egoismi dei singoli individui gli egoismi delle singole nazioni 220 i morti per l'esplosione che si è verificata al porto l'inaugurazione del nuovo ponte di genova il ponte di genova nelle mie attenzioni oggi occupa un posto stabile quindi è stata una tragedia è stato ricoverato qui all'ospedale di siena alex zanardi è stato sottoposto a un delicato delicatissimo intervento chirurgico una giornata che fa la storia del regno unito ecco qui la campanella questa causa del covid è chiuso sono abbracci liberatori che ci diamo appunto che ci davamo in questo momento sicuramente è la parte che manca se non facciamo niente e la temperatura che esce due gradi, tre gradi non abbiamo più il controllo della situazione non abbiamo più il controllo L'America sta votando, sono le ultime ore, i nostri inviati sono in diversi punti del paese. Sono gli stati disuniti d'America quelli che si apprestano a dare la loro preferenza questa sera. Biden ha condotto da qui tutta la sua campagna elettorale. Manifestazione Pacifica, anche se ho già contato circa 7-8 fucili d'assalto qui nei dintorni, Joe Biden è il vincitore delle elezioni americane. Abbiamo fatto, abbiamo fatto, Joe. Questo è il momento per curare in America. Va. James Vaughn. Il Mepoio Il Mepoio Il Mepoio L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid. Oggi è un bel giorno simbolico. È stata una grandissima emozione. È stata una grandissima emozione.